Antonio Moretti resta agli arresti domiciliari nella sua tenuta a Sette Ponti a Castiglion Fibocchi dove si trova da fine novembre. Il GIP del Tribunale di Arezzo per Giorgio Ponticelli ha infatti respinto la richiesta di revoca avanzata dai suoi legali Mauro Messeri e Stefano Campanella. Il capostipite della famiglia di imprenditori di Castiglion Fibocchi dunque non tornerà in libertà come invece era successo al figlio Andrea che attualmente ha l'obbligo di dimora e al suo braccio destro Maurizio Innocenti. Per il giudice non sarebbero infatti venute meno le esigenze di misura cautelare che comunque scadrà il prossimo maggio. Una decisione che ha sorpreso i legali di Moretti che hanno già annunciato ricorso in ogni sede anche alla luce del parere favorevole che aveva espresso lo stesso PM Marco Dioni al termine del lungo interrogatorio dello scorso 22 febbraio durato oltre otto ore e nel corso del quale Moretti aveva cercato di dare la propria versione dei fatti contestati. Antonio Moretti era finito ai domiciliari per un'inchiesta sull'autoriciclaggio della Guardia di Finanza di Arezzo. Associazione a delinquere finalizzata la commissione di reati tributari, bancari, fallimentari e riciclaggio le ipotesi di reato su cui indaga la procura.